Nel 2050 fu abolita la carcerazione e tutti i detenuti vennero messi in una serie di zone recintate all'interno delle quali non vigeva nessuna legge se non quella del più forte. Tramite accordi internazionali poi vennero ridotti soltanto a quattro vassistime zone recintate dove nessuno quando vi finisce può uscire, non importa il motivo per cui finisci lì dentro, semplicemente ci devi rimanere ed anche i figli se nascono ma non ne nascono e vi spiegherò dopo il perché. L'unica spesa degli stati è quella della sorveglianza, delle recinzioni tramite robot coordinati dall'intelligenza artificiale. Essi hanno l'ordine di sparare a vista a chiunque esca dal recinto. Alcuni di questi campi sono grandi come regioni, vi abitano in tutto cento milioni di persone, nel mondo libero si fa per dire, quello governato dagli Stati Uniti. Non chiedetemi di cosa succede nel dominio cinese perché nessuno può saperlo dalla nostra parte. Chiunque voglia fare visita a chi vive nelle baraccopoli recintate deve rimanerci e quindi l'isolamento è totale. Perfino le organizzazioni umanitarie che nutrono queste persone, che da sole non sarebbero in grado di procurarsi del cibo e che vivono in baracche costruite con lamiera e legno, usano dei droni per portare il cibo, non vanno direttamente. Dentro non vi sono aziende, infrastrutture, ospedali e la presenza di questi milioni di persone senza legge è il monito più efficace per la maggioranza della popolazione libera che li convince ad accettare qualunque angheria senza battere ciglio pur di non finire là dentro. Tutti gli uomini liberi dotati ormai del cibo nel cervello sono terrorizzati dall'idea di finire nelle baraccopoli che così vengono chiamate. Anche se buona parte dello spazio recintato è fatto di boscagna e di rifiuti sparsi da tutte le parti. Il governo manda continuamente dei droni a filmare le zone più invivibili per mostrare immagini come monito agli abitanti del mondo libero delle città in modo che righino dritto. Ad ogni minima violazione della legge, ad ogni protesta, ad ogni tentativo di ribellione specie con il nuovo governo internazionale eletto dai cittadini e vi ne ho parlato nelle puntate precedenti, guidato da Caesar Neron, la legge dei giudici robot che applicano l'intelligenza artificiale nelle sentenze è spietata e quasi inevitabile. Molti uomini buoni continuano a sovvenzionare le organizzazioni umanitarie che tuttavia non fanno altro che gettare cibo e mettere tubi lungo i confini delle recensioni con acqua potabile per far sopravvivere i disperati che vivono dentro le baraccopoli. Per legge sia il cibo che l'acqua devono essere addizionati di una sostanza che in minima quantità rende i maschi sterili ed è per questo che sono rarissimi i nuovi nati dentro il recinto. La popolazione diminuisce costantemente nonostante milioni di persone che ogni anno vengono condannate a finire i loro giorni nelle baraccopoli recintate. Io una volta andai vicino a quella europea che si trova in Germania vicino alla zona radioattiva ma da lontano potevi vedere solo le persone che andavano a prendere l'acqua vicino alle recensioni. Evidentemente mancavano sorgenti interne sicure. Solo le organizzazioni non governative approvate dal governo possono quindi aiutarli e la maggior parte dei sordi che ricevono vanno in stipendi e pubblicità e non a coloro che organizzano questi acquedotti e che riforniscono di cibo i droni. Solo un 20% effettivamente diventa cibo per queste persone rispetto a ciò che viene donato. Esse non ricevono nemmeno vestiti usati perché sono una ricchezza che va accuratamente riciclata nel mondo occidentale. Gli abitanti delle baraccopoli devono arrangiarsi. Allo Stato non interessa. Per una legge che fu fatta già da Cesar Niron dopo quella che vietava la libertà di opinione veniva condannato a finire nelle baraccopoli chiunque aiutasse queste persone individualmente senza passare dalle ONG approvate. Alcuni in passato portavano dei vestiti depositandoli nella parte bassa del recinto dove potevano essere presi dalle persone bisognose. Facendolo oggi la guardia robot è autorizzata a processare immediatamente i colpevoli ed a mandarle subito tra coloro che sono condannati a vivere nelle baraccopoli. Chi fa un gesto di solidarietà verso questi disperati viene condannato immediatamente a finire in mezzo a loro perché la compassione è stata vietata per le legge. La compassione è cattiveria dicono, è egoismo dicono, ribaltando la realtà. Coloro che hanno un cip nel cervello di basso livello lo sentono ripetere tante di quelle volte che per loro il bene è divenuto è divenuto prevalere sull'altro soggiocarlo competere per essere migliori. Questo è il fine delle scuole è il giusto il bene del mondo post lavorativo quello dove non c'è più lavoro e dove solo pochissimi solo i grandi arrivano arrivano a lavorare e cioè a dirigere a soggiogare a imporre qualcosa agli altri. Il lavoro è ormai per pochi ma della vita delle città vi parlerò della prossima puntata. condividi questo video iscriviti e fai iscrivere al canale chiocciola leremita i tuoi amici mi aiuterai a sfornare contenuti sempre migliori.